Un grande piacere intanto trovare un grande attore di teatro, e l'ho vista a teatro come lei in questo film, così fuori di testa in un certo senso, no? E il suo personaggio è questo padre molto divertente, molto intelligente, ma anche molto... Esatto, che gli è piaciuto il personaggio? Come si è trovato? Ma no, a me è piaciuto molto, anche perché in realtà si era partiti con la consapevolezza di dover fare Renato Izzo, che io ho conosciuto a suo tempo, grande personaggio nel mondo del doppiaggio, del cinema, ma in particolare del doppiaggio. E allora su questo io ero molto, diciamo così, contento in qualche modo. E poi lavorandoci ho capito, al di là se poi abbiamo coltano il segno o no, perché il film ha preso poi un'altra strada, almeno il racconto se non il personaggio. E nel corso della lavorazione ci siamo resi conto, mi sono reso conto, di quanto fosse un personaggio così estremamente ormai consapevole del disastro. Che è stata la sua vita. E in qualche modo l'oggettivazione di questo disastro è proprio questo allargamento senza requie delle famiglie che si allargano, si allargano, si allargano sempre di più. E questo in qualche modo, secondo me, è tutto sulle spalle e nella vita di questo personaggio. Che poi si capiscono dal film, non lo so, io comunque questa è la sensazione che ho avuto. Tant'è vero che comincia il personaggio a presentarsi con un tentativo di suicidio. Sì, che è dovuto ad un fallimento o comunque ad un problema finanziario dell'azienda, ma a un certo punto lui stesso dice l'uomo e l'azienda sono la stessa cosa, il lavoro è l'uomo e di conseguenza l'azienda è anche la famiglia in qualche modo in questo caso. E quindi è un personaggio estremamente, qua e là qualcuno mi dice divertente, forse lo è anche, però è il divertimento di un cinismo consapevole ormai di una vita che sta sulla china, diciamo, della fine. E che non si vuole accettare con, come dire, con rassegnazione. Questa è una commedia femminile, al femminile, scritta, interpretata da donne, dove ci sono anche parecchi uomini che se la passano un po' male. Uno di questi è interpretato appunto da Maurizio Casagrande. Come mai che quanto ti ha fatto fare? Beh, male, diciamo, più che altro le prendo in tutti i sensi. Dal punto di vista fisico, convinto che siano atti d'amore, sessuali, quasi, invece so botte. E poi anche dal punto di vista psicologico, diciamo, è un uomo schiacciato nella sua mascolinità piccola, meschina, ma sincera, perché alla fine... Ma alla fine le ama tutte. Le ama, lui ama le donne. L'uomo è che ne ami troppe. Troppe, esatto. Ma fa pure il ginecologo, quindi è una sua passione. Per passione, esatto, è una passione, è una passione vera. E quindi, giustamente, però, chi troppo vuole le prende così. Ma tu le lasci per sempre, le tue donne, perché lasciami per sempre ha un significato che non bisogna lasciarsi in realtà, ma tu le tue donne, le rivedi, le ex? Ma io penso di sì, penso di sì. Io non credo che chiunque abbia diviso un pezzo della nostra vita merita attenzione. Anche le persone che in qualche modo ci hanno ferito. Poi il tempo c'è questa meraviglia che, come una pietra che viene smussata e levigata, ti accorgi che quelle punte, quelle asperità che tanto ti avevano graffiato, poi alla fine diventano quasi piacevoli nel ricordo. Io dico, in cucina, tu prima fai una carne, fai un arrosto e poi a un certo punto fai una polpetta. Brava. Allora, se uno è stato un grande amore, dopo poi, non voglio dire la polpetta, sembra anche una diminuzione culinaria, però la metà, la metà, la polpetta poi è una cosa meravigliosa. Perché non continuare a volersi bene? Tanto il tempo stempera tutto, allora non lasciamoci per sempre, continuiamo a vederci, non tutti i giorni, ma le feste comandate, i compleanni dei figli. C'è niente di più pericoloso di un pranzo di famiglia? Sì, sì, c'è un pranzo con gli ex, come il nostro film. Ma alla fine... Posso dire una cosa, c'è il pranzo peggiore di tutti e quelli da soli. Ma c'hai ragione. E allora siamo insieme, comunque, sì. Tutti insieme, per sempre. Max, intanto è un piacere trovarti in questa veste e trovarti anche bravo, perché non era scontato, no? Com'è nata questa esperienza come attore puro, dove parli, suoni, fai anche quello che sai fare, però essenzialmente reciti? Beh, è stata un'idea di Simona, quella di pensare a un ruolo, quindi lei ha pensato a questo ruolo. Pensando proprio al fatto che io l'avrei potuto interpretare. Quindi me l'ha cucito addosso questo ruolo. E alla fine, quando ho letto la sceneggiatura, ho capito che avrei potuto farlo. Non faccio l'attore, ma mi piace recitare. L'ho sempre fatto da ragazzo in teatro, cortometraggi. E in questo caso, però, avendo tanti impegni con la musica, non è che posso dedicarmi al cinema più di tanto. Però quando lo faccio, lo faccio con grande gioia, grande piacere e anche cercando di dare un senso a quello che sto facendo. In questo caso, questo ruolo per me aveva un grande senso. Quindi il fatto che l'ho interpretato io sotto la incredibile direzione di Simona, perché lei, proprio sapendo che sono musicista, lei mi dava le indicazioni sonore, mi diceva le note. Che note? La sceneggiatura, nel modo di recitare, era uno spartito, c'erano delle note che andavano su, andavano giù, emotive, ma anche proprio di tonalità, di corde, per cui recitare in un certo modo, recitare così, avere... E tutto il film, in qualche modo, è stato pensato con quest'aura musicale. Quindi sono sicuro che alla fine è riuscito, perché ci sono tutti questi personaggi che si mischiano, queste storie che si intrecciano, come tutti gli strumenti che ognuno fa al contrapunto dell'altro. Quindi esiste il violoncello, perché il primo violino fa un'altra cosa, e magari il flicorno fa un'altra cosa. Insomma, alla fine ogni strumento ha un motivo di essere lì. E in questa storia, in questa orchestra, esce fuori anche questo personaggio, che secondo me ha una sua poetica, una persona sensibile. In quell'alter ego di viola, che è appunto interpretato da Barbara Bobulova, e in questo caso, appunto, la direzione, la regia di Simone, ha fatto sì che io potessi inserire nel mio personaggio anche in qualcosa di femminile. Quindi la sensibilità ai profumi, la cosa che magari non mi ha schietto più di tanto... Quindi, per fortuna, lei mi ha regalato quest'altro senso femminile che ha reso il personaggio che interpreto ancora più interessante. Infatti è uno dei pochi che esce bene dal film. Tu sei un padre nella vita, tu hai delle femmine, no? E qui invece... Hai tutto? Perché qui sei il padre adottivo di un ragazzo di 20 anni, e di un ragazzo adolescente, insomma, più o meno uguale, che però non vede. Come hai riportato le tue dinamiche di padre in questo film? Ma io ho un figlio grande, che ha 19 anni, per cui in qualche modo rivedo tutti i passaggi che fa un film. Però, diciamo, al contrario del film, io con il suo figlio lo vedo tutti i giorni, per cui non è che... E vedo tutti i miei figli tutti i giorni, per cui ho cinque figli, con due mamme diverse, una famiglia allargata, e il mio obiettivo, la cosa che sto cercando di portare avanti, e come d'altronde buonsenso vuole, è quella di tenere degli equilibri, no? Di mantenere degli equilibri, con tutte le difficoltà. Però l'importante è esserci, far sì che questa famiglia continui ad essere una famiglia. Sono due nuclei, due cellule, che piano piano, per necessità, come la cellula per acquisire più consapevolezza, il citoplasma, fa sì che si unisce questa cellula a quest'altra cellula, e così dovrebbero fare le famiglie. Una volta che ci si sgrega, trovare il modo, il buonsenso, l'amore, affinché le cose possano procedere. Ci vuole tanta collaborazione e tanta intelligenza, nel senso di intelligere quelle che sono le necessità, le percezioni dei figli, delle persone che possono, se non gestite bene, anche subire delle forme di sofferenza. Per cui questo, la volontà è quella. Quindi una buonsenso, una buona volontà, complicità, e alla fine le cose si riescono. Ormai è molto facile separarsi. E quello che dicevo prima, proprio con Simona, che è più facile, forse è più difficile trovare la terapia per poter stare insieme, piuttosto che separarsi, perché ormai adesso le due persone non vanno più d'accordo, al minimo problema si separano, tanto lo fanno tutti, e invece la vera sfida è mai restare insieme. E comunque, se volete avere dei consigli pratici per come risolvere, per identificare delle dinamiche che possono anche riguardarvi, interessarvi, andate a vedere il film, lasciami per sempre, perché secondo me qualche cosina, qualche spunto, riuscite anche a trovarlo.